Buonasera, benvenuti alla proiezione di questo film di Onde, Maudit di Emmanuel Parrault che è qua, un film che proviene, un film di produzione francese ma girato e calato in un ambiente non così usuale da vedere al cinema che è l'isola La Réunione che sta nell'Oceano indiano che è un dipartimento a tutti gli effetti della Francia. Chiederei a Emmanuel di presentarci il film, chiedo scusa, io non c'era per l'autrice che ci sarà dopo, invece all'incontro cercherò di tradurre le parole di Emmanuel, prego. Non ho capito bene quello che ha detto, perché non ne parlo praticamente alcune lingue estrangere, sono solo disolato, non ne parlo di fare dei film a La Réunione, dove le parlano creole réunionnais, come quali le lingue che non comprendono, permettono di se comprendere, comunque. Ora, molto presto, io faccio dei filmi essenzialmente a La Réunione, in ogni caso di circa 17 anni, sono arrivato completamente per hasard su questa terra, ci ha totalmente cambiato la forma di fare il cinema, la pratica... Dice che è arrivato quasi per caso 17 anni fa a La Réunione e ha cominciato a fare film in quell'isola per gli abitanti di quell'isola. film in cui ho fatto tutti i filmi, e quindi il film in cui si parla di questa terra, vuol dire che non esitate a fare domande. Dice che quindi tutti i suoi film li ha girati lì, a La Réunione, e quindi dice che se ne parlerà poi dopo e non esitate a fargli domande. La proiezione è la prima mondiale del film e lui stesso non ha ancora visto la versione definitiva del film che stiamo per vedere, solo 3 persone l'hanno visto fino ad ora, siamo fortunati. Grazie mille. Adorno. Grazie mille.